Quinta corsa del programma, è Bella Dejave all'interno che prende il comando, Usunex in seconda posizione, Feder Martina, Maillard, Maillard in quarta, Yatabu in quinta. Cavalli che affrontano la prima piegata, sempre Bella Dejave al comando, Usunex in seconda posizione, Feder Martina in terza, Yatabu in quarta. Cavalli che affrontano la retta opposta stanno per immettersi nella piegata finale. Ancora Bella Dejave al comando, Usunex in seconda posizione, Feder Martina in terza, Yatabu in quarta, Maillard in quinta, unitamente a Ferisaki e a Lanze. Cavalli che stanno ultimando la piegata finale, Usunex a centropista, sferra l'attacco con Yatabu al suo esterno, Maillard in quarta, Ancora Lanze per corsie esterne ed è Lanze, Yatabu ancora al comando. Ed è Yatabu che viene a vincere la quinta da Kilivani, in seconda posizione Ferisaki e in terza Lanze. Si attende l'ordine ufficiale.